Ciao, io sono Pasquale e bentornato sul mio canale IoRisparmio. Una componente fondamentale del mondo degli investimenti è il fattore psicologico. Non importa quanto tu sia esperto, preparato in questo settore da anni, ma se ti manca la componente psicologica per essere un muro di adamantio nei confronti delle tue emozioni, sono due le possibili situazioni in cui ti puoi andare a trovare. La prima è che da un momento all'altro ti viene un attacco di cuore e ti stendi, oppure perdi, irrimediabilmente, una marea di soldi. Dall'altro le due situazioni possono sicuramente e molto probabilmente presentarsi contemporaneamente. Te ne parla uno che ha avuto una di queste esperienze nella propria vita reale, diciamo. Non parlo dell'infarto, fortunatamente, ma dei soldi persi. Per cui, ti ho piaciuto le cose, per cui ti vorrei dire la mia opinione su questo argomento, sempre prestando attenzione al fatto che io non sono né un consulente finanziario, ma ti parlo solo della mia esperienza personale. Ed in questo caso, inoltre, rispetto a questo video, non sono neanche uno psicologo, non sono uno psicologo, ma quando hai paura, comunque, non hai bisogno dello psicologo che te ne rendi conto da solo, senza bisogno di aiuto di nessun altro. Poi, se si tratta di soldi, non ne andiamo a parlare. Prima di iniziare ti voglio ricordare che ho un account Patreon, nel quale puoi andare a sostenermi, nel quale pubblico dei contenuti riservati solo agli iscritti. Il tuo sostentamento può iniziare con donazioni che vanno a partire da solo 4 euro al mese. Così mi aiuti ad avvicinarmi alla mia indipendenza finanziaria. Dunque, perché ti parlo di psicologia? Ti faccio un esempio pratico monetario di un idiota che io conosco, proprio uno stupido, si chiama Pasquale Riganello. Ne hai mai sentito parlare? Non so se lo conosci. È un tizio che vive in Irlanda. Questo signore, questo vecchiaccio, praticamente a fine agosto del 2019, ancora da poco, aveva studiato, aveva iniziato a studiare questo mondo, aveva solo due settimane di esperienza, apre un conto demo, e su questo conto demo aveva già perso sui 100.000 dollari iniziali, 10.000 dollari. Il conto demo era sui toro. Però lui dice che è bravo e decide di metterci i soldi veri, perché lui pensava, io può, ma non aveva fatto i conti col vecchio amichetto degli investitori, novelli, la paura. Vabbè, basta fare lo scemo e parlare in terza persona. Però, insomma, io ho veramente versato i miei primi 250 euro sui toro facendo del copy trading ad agosto del 2019. E poi mettendo soldi sul cambio bitcoin-dollaro e sul forex. Insomma, facendo le cose alla c***a di cane. E pensavo di fare subito soldi a palate, milionario subito. Fatto sta che appena cominciai a vedere un meno 2 euro, e ribadisco non meno 1.000 euro, meno 2 euro, 2 euro, chiudevo le posizioni. E così facendo, fa le prime esperienze di toro, e per poi passare al plus 500, che fa solo poi CFD, per cui è anche peggio per un esperto, ed infine De Giro, che è il broker che utilizza talmente, facendo due conti, fra commissioni e ovviamente perdite vere e proprie, diciamo sul capitale reale, perché investivo a sentimento, invece che studiarmi bene gli strumenti in cui stavo andando a metterci i miei tanto sudati, lavorati e risparmiati soldi, circa 300 euro ce l'ho smazzati così. Qualcosina in più in realtà. Qualche secondo di lavoro per Cristiano Ronaldo, qualcosina in più per me. Ora, un comportamento del genere, ovviamente, è da deviato mentale. Quale sono in realtà? Ma in realtà, passandoci tanto tempo, ho capito che è una problematica comune. Ci sono delle carenze conoscitive sull'argomento che non aiutano psicologicamente. Sapere, poiché, ci sono degli studi che confermano che la sensazione di soddisfazione nell'avere un profitto nel campo finanziario è molto minore della paura di andare a perdere soldi, anche se la cifra è la stessa, nella persona media parlo, ovviamente, è una chiara spiegazione dell'argomento e di perché molta gente perde soldi in questo mondo. Ci sono tanti guru che consigliano tantissime metodologie su come combattere la paura ed affrontare la situazione psicologica in questo argomento e, sinceramente, presumo che funzionino. Io, sinceramente, non ho mai letto di questi libri in proposito. Quello che ti posso illustrare qui, in questo video, è semplicemente quello che ho visto che ha funzionato per me, che ho fatto io, di prima persona. Per cui, è quello che ha funzionato per me, non è detto che funzioni per te, ma puoi prendergli degli spunti. Ho cominciato questo processo organizzativo ad ottobre del 2019 e, effettivamente, ho cominciato a vedere i frutti col passare del tempo. Perché le abitudini, soprattutto quelle errate, sono dure da andare a cancellare, a cambiare. Prima cosa che ho fatto è stato cominciare a studiare seriamente quello in cui andavo a investire, quello in cui andavo a buttarci i miei soldi. Se investo in Microsoft, o in Facebook, o in Tesla, devo sapere che tipo di azienda è, quanti debiti ha, se sopravvalutata, se sottovalutata, se ha delle prospettive di crescita, oppure se sembra solo un'opportunità per fare delle operazioni di sciacallaggio, o una bufala dove perderai i soldi. Insomma, e soprattutto, se non si capisce in cosa si sta investendo, meglio lasciar perdere. Non ha senso investire in un business, o in un prodotto, se non lo si capisce appieno. Io, per esempio, sto cercando di capire bene le opzioni, perché penso e trovo che sia uno strumento molto interessante per, diciamo, andare a fare del gain, profit gain, ma passerà almeno un anno prima che io ci vada a mettere le mani con i soldi veri dentro, perché non me la sento al momento. Credo che, se lo facessi adesso, butterei solo delle mie risorse economiche, che ad oggi possono essere dedicate e utilizzate a strumenti che io capisco meglio. Un altro passo che mi ha aiutato è di fare le mie operazioni sempre a mercati chiusi. Ho notato che, immettendo l'ordine a mercati aperti, e vedere che il titolo magari andava nella direzione opposta di quella in cui io pensavo, mi faceva chiudere le operazioni in pochi minuti. E per cui giù di commissioni, perdi altri soldi, buttali in alto po' di soldi nel gabinetto e tiro lo sciacquone. Insomma, ora invece metto tutti i miei ordini o a fine giornata, o meglio ancora nel weekend, che poi già io non faccio moltissime operazioni, ma quando le faccio devo avere il tempo di capirle, di capire come farle, di ponderarle, di organizzarle, a che prezzo comprare, e soprattutto non vedere oscillazioni improvvisse nel prezzo aiuta tantissimo. Tutto questo mi mette la tachicardia anche oggi, se ci penso di farlo. Il mio vero tallone di Achille, sinceramente, credo che sia una problematica che in realtà hanno molti novizi degli investimenti. È quello di stare costantemente a guardare la app del broker o dal computer magari, per controllare come vanno le nostre azioni. Questo è l'errore peggiore, secondo me. È l'elemento finale che crea dei problemi assurdi. Il mostro finale di Altered Beast. E se non sai chi è Altered Beast sei troppo... Anzi, cosa è Altered Beast se è veramente giovane? Fai su Google, scrivi Altered Beast. In ogni caso, questo macigno psicologico è ancora in fase di superamento, però sono riuscito ad ammortizzarlo. Come l'ho ammortizzato? Scaglionando e dilalando nel tempo, per cui nell'arco dei mesi, ogni quanto vado a guardare il mercato. Scusa, devo premettere che io investo a lungo termine, per cui per me questa metodologia ha senso. Se invece fai una persona, se sei una persona che vuole fare del day trading o dello scalping, ovviamente valgono considerazioni completamente diverse. Comunque, stavo dicendo scaglionare. Cosa intendo? Voglio dire che all'inizio io circa ogni minuto, due o tre, aprivo l'app di DeGiro e guardavo e dicevo cavolo, smadonnavo oppure dicevo ah che bello sono su e sono giù pensando magari che se si prendono tutto o pensando a quale nuovo modello di Millennium Falcon andavo a comprare. Cosa molto! molto sbagliato. Per cui mi sono messo dei paletti. Ad inizio ho cominciato a guardare ogni mezz'ora circa poi dopo una settimana mi sono imposto di guardare al massimo ogni ora. Passato un'ulteriore settimana sono passato tre ore e così via poi ho cominciato a fare mezz'ora dopo l'apertura dei mercati e subito dopo la chiusura per cui due volte al giorno solamente. Successivamente sono passato a farlo solo a fine giornata e ho notato che il mio nervosismo su quello che accadeva calava di volta in borsa tra l'altro come dice Warren Buffett se chiudessero la borsa per due anni io non mi preoccuperei. L'ansia cala anche così nella voglia di fare operazioni dettato solo dal panico. Al momento sono a uno step successivo guardo il mio portafoglio solo il venerdì sera alla chiusura dei mercati e poi lo guardo il sabato mattino ma non perché devo guardare cosa succede ovviamente ma perché devo decidere cosa fare in base a come sono andati i mercati prendere le mie decisioni e decidere se aprire delle posizioni. Come sai se mi segui da un po' io non uso stop loss proprio perché il mio tipo di approccio agli investimenti è su un lungo periodo. Voglio completare questo processo con altri due step per cui fare un controllo ogni 15 giorni e infine il mio diciamo fine finale se si può dire che stupidata è una volta al mese e lì voglio fermarmi. Una volta al mese credo che sia il mio timing ideale così da poter decidere eventuali bilanciamenti nel caso siano necessari. Per cui ti posso dire che oggi dormo meglio e forse investo meglio. Sono in positivo per cui ho colmato tutte le perdite che avevo avuto in passato e se non le avessi avuto ad ottobre sicuramente diciamo se non le avessi avuto da ottobre ad oggi avrei poco più di 1000 dollari di profitto ma non li ho. Ma questo non è un male devo essere sincero ho imparato la lezione anzi le lezioni su come investire un po' meglio e su come un po' gestire la mia psicologia. Ho detto a me stesso qualcosa per aiutarmi a digerire questa perdita anzi queste perdite invece di dirmi cose negative come Pasquale ha perso un sacco di soldi mi sono detto bene Pasquale bravo hai pagato un consulente che ti ha fatto capire dove non devi sbagliare negli investimenti e quel consulente sono le mie esperienze. dagli errori non bisogna andare a trarne i lati negativi solo le cose negative ma prendere gli errori come delle esperienze per aiutare a migliorarsi lo dicono molti investitori famosi come tra l'altro c'è stato prima a Warren Buffett ma anche dei Dalio e da loro c'è solo da imparare. Vorrei anche cogliere l'occasione per ringraziare qualche persona che mi sta aiutando in questo processo. Prima di tutto vorrei ringraziare Riccardo perché da lui sto imparando tantissime cose che sto mettendo in pratica giorno dopo giorno e grazie alle sue spiegazioni sul suo gruppo Telegram sto migliorando tantissimo. Inoltre vorrei anche ringraziare a Tonio e il suo gruppo Telegram All About ETF che mi ha dato tanti spunti di crescita personale e che mi sta aiutando molto a crescere sia personalmente ma anche il mio canale YouTube per cui grazie tante ragazzi. Anche per questo argomento fai le tue opportune ricerche e cerca di capire appunto come sei come persona e se queste metodologie che ti ho appena illustrato possono aiutare anche te a perdere meno soldi e a vivere i tuoi risparmi o i tuoi investimenti in maniera più serena. Non bisogna assolutamente perdere soldi sugli investimenti e ti posso assicurare che io l'ho fatto ho perso tanto sonno io spero di averti dato il mio più onesto di imparziale giudizio possibile come migliorarti ad affrontare la psicologia e come affrontare psicologicamente il mercato degli investimenti. Qui sotto puoi lasciarmi sempre quando vuoi i tuoi commenti e fammi sapere la tua idea in proposito a queste metodologie che io utilizzo e che sto utilizzando se il video ti è piaciuto come sempre ti richiedo di distruggere il pollice in su senza distruggere la tastiera di iscriverti al canale e di cliccare la campanella delle notifiche e per oggi è tutto e ci vediamo al prossimo video ciao